Una nuova fumata nera ieri per l'elezione dei due membri della Corte Costituzionale, come se ne esce oggi una nuova votazione? Oggi si riuscirà, secondo lei, a concludere questo patto Forza Italia-Partito Democratico? Diciamo che stanno bloccando il Parlamento perché non sono nemmeno capaci, Renzi e Berlusconi, di spartirsi le poltrone di organi così importanti. Noi facciamo una proposta, cioè non blocchiamo il Parlamento. Votiamo di notte queste nomine, troverete un accordo. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, le abbiamo fatto addirittura tre mesi fa, con i nostri nomi dei candidati, gente indipendente, autorevole, che avrebbe tranquillamente potuto rappresentare bene il Paese. Loro stanno facendo nomi come Violante, che è un politico di professione che ha garantito le imprese di Berlusconi e ha garantito che non si facesse il conflitto di interessi. Sono nomi impresentabili. Ieri addirittura è andato in scena un ricatto. Il Movimento 5 Stelle ha subito il ricatto per cui se non votavamo Violante non avrebbero votato un dei nostri candidati per il CSM. A noi non interessano le poltrone, a noi interessa che in questi organi tanto importanti e di tutela delle libertà dei cittadini vada dentro l'eccellenza del nostro Paese, non per forza un nostro nome, questo è certo. Cambierete i nomi o il ticket rimane quello Bruno Violante? No, il ticket rimane quello anche perché cambiarlo in questo momento significherebbe non serietà e soprattutto ricreare una situazione di veti incrociati probabilmente. I nomi che abbiamo fatto, parlo in modo particolare ovviamente di quello del Partito Democratico, che conosco meglio, mi pare un nome assolutamente all'altezza. Il fatto che ci siano anche un po' di rappresentanti delle istituzioni, deputati e senatori del PD che non lo votano, perché i dati dicono che ci sono dei franchi tiratori anche dentro casa nostra, non mi pare esempio di serietà per cui mi auguro che alla fine già oggi si possa superare questa situazione di stallo. Questi franchi tiratori nel PD ma anche in Forza Italia stanno mettendo sotto attacco il patto del Nazareno? Le letture che si possono dare sono tante, tra cui anche questa. Io non so se ci sia un patto del Nazareno che va al di là delle riforme costituzionali e che coinvolge anche la giustizia, mi auguro di no. Comunque il nome di Violante non può essere messo in discussione, c'è anche un rapporto di serietà, di lealtà verso chi è rappresentato le istituzioni, chi è rappresentato la nostra forza politica. Francamente non credo che Luciano Violante come altri meriti questa cosa, quindi mi auguro che si chiuda in fretta. Sul CSM Forza Italia candidato Vitali che è plurindagato, per voi è votabile, è digeribile anche questo? Lì c'è una situazione più complessa e anche all'interno di Forza Italia si è vista, mi risulta, non so se poi sia vero che oggi su questo quella forza politica Forza Italia farà una riflessione. Un'ultima cosa, il Movimento 5 Stelle accusa il PD che per votare il loro candidato del CSM voi avete chiesto i voti del Movimento 5 Stelle per Violante, è vero? No, noi non abbiamo chiesto nulla. In genere quando si votano organi di garanzia dello Stato come in questo caso dovrebbe esserci un'intesa ampia, nel senso che il segnale bello del Parlamento sarebbe stato un voto al primo scrutinio che avesse già completato tutto. Quindi Movimento 5 Stelle non dice la verità quando dice questa cosa, mi auguro che anche loro possano contribuire invece a completare e a leggere il plenum della Corte e anche del CSM.